e con immenso piacere posso darvi il ben trovati finalmente sono tornata in questa meravigliosa casa serena mi siete mancati mi siete mancati tutti mi sono mancati i miei friends che si sono dimostrati veramente degli ottimi amici che hanno aiutato tele regione tutta ma soprattutto serena sguera a sopperire a questo periodo che purtroppo è dovuto toccare anche a me quello della quarantena grazie la mia carmen grazie a christian grazie a gioia grazie ad alfredo a lucia francesca insomma vi ringrazio carmen buongiorno a tutti ma finalmente serena sei tornata io che l'ho detto ti sentivo ogni giorno mi faceva piacere insomma coccolarti un po con qualche messaggio ma soprattutto ti ho detto una cosa molto importante perché è bellissimo questo amore che si può creare come amicizia fra donne ti ho detto torna perché la tv non è la stessa senza di te e quindi lo dico veramente col cuore siete stati veramente una famiglia per me insomma mi avete aiutato in questo momento quindi vi dovevo ringraziare ma ringrazio anche i miei cameraman ringrazio francesco ringrazio nicola mario ringrazio giuseppe porcelluzzi ma soprattutto un ringraziamento speciale a nicola della regia che insomma si è trovato anche alcune volte a dover risolvere una serie di problematiche grazie a nicola l'ho rivisto con il sorriso stamattina ma lì mancavo io sì è certo bene bene siamo tutti contenti caro finalmente il caffè colorato sì allora io sono già con la mia bella tazzina perché amo tantissimo il momento del caffè sono una donna che ama molto il caffè ho avuto anche l'occasione di conoscere il nostro angelo perché sono stata ospite di christian il martedì e quindi ho conosciuto angelo e lui si ricordava eh di me perché insomma parecchie volte lo salutavo mi ha dato anche dei consigli su come bere il caffè quindi sono stata contenta come vedi ce l'ho già in mano per gustarmelo nella miscela gold ormai io faccio tutto da sola la gold che poi quello insomma più se vogliamo per un gusto femminile sì infatti io avevo detto che mi piace il caffè un po lungo e mi ha detto guarda il caffè gold è quello adatto per te perché insomma al palato di una donna è meno carico meno strong sì hai notato carmen che ho indossato lo stesso vestito della sisi infatti sono tornato se l'avessi saputo avrei messo anche io la stessa camicia tra l'altro un colore che ti dona tantissimo abbiamo visto anche con sanremo ormai il rosa proprio imperversa in tutti gli outfit senti ma posso chiederti posso dirti anche la mia su sanremo sì come no a me non insomma secondo te doveva vincere ma mood sì mi hai detto allora visto che mi piaceva elisa visto che mi mi dai diciamo me la metti su un piatto d'argento me la servi su un piatto d'argento un po' la la situazione sanremo innanzitutto anche io voglio ringraziare te insieme a cristian per averci concesso diciamo la la fascia pomeridiana quindi siamo andati in onda alle 14 e 45 lo faremo anche oggi pomeriggio con l'ultima puntata di palcoscenico sanremo allora ti dico la verità io da subito ho tifato per ma mood e blanco mi hanno intenerito tantissimo con la loro canzone poi da sempre io che sono un appassionata di sanremo non me ne sono perso uno anche se ogni tanto mi abbiocco sul divano poi mi faccio il caffè me lo faccio anche alle 11 di sera perché devo star sveglia fino alle 2 ti dico la verità ogni volta che sento una canzone che mi mi fa veramente vedere i brividi a venire i brividi come è stato quest'anno con ma mood dico è la canzone vincitrice e ci prendo quasi sempre brava mi sono piaciuti moltissimo gli outfit che che se ne dica belli brutti esagerati meno esagerati devo dire un sanremo tutto da gustare è vero hai ragione ci è piaciuto questo sanremo ma soprattutto ci è piaciuto tantissimo palcoscenico sanremo per cui ricordatevi questo pomeriggio l'appuntamento con la nostra bellissima carmen e il nostro bravissimo cristian poi ti dico serena tornando a ma mood mamma mia però si vabbè orietta una volta si è vestita da variante omicron si oriettona sai qual è la cosa vabbè qui stiamo passando un po tutte le immagini che abbiamo utilizzato nel programma devo dire in questo sanremo è venuto fuori il fatto che orietta berti valzanichi massimo ranieri gianni morandi siano veramente un po avanti con l'età ma sono stati su quel palco si sono divertiti anche con emozione quindi devo dire sì non non ci si pone più paletti sull'età quando si ha una passione di questa passione si fa un lavoro ovviamente si va a briglie sciolte ti dicevo non so serena sicuramente conoscerai la storia di ma mood lui mamma sarda e papà egiziano che lo ha a che ha lasciato la famiglia all'età di cinque anni lui è stato anche molto bullizzato dagli amici perché era cicciottello perché porta era molto mio per cioè portava degli occhiali aveva forse tre gradi di miopia quindi lui ha diciamo riposto nella canzone nella musica poi suoi disagi di questa anche molte volte viene fuori un po il fatto di di vivere anche in periferia milano in determinati ambienti ma è bravissimo e poi un bellissimo ragazzo bravo ma mood e bravo naturalmente anche blanco però ti ho detto a me piacciono sempre le voci femminili non so perché vabbè io poi fraternizzo molto con le donne anche io vabbè adoro elisa una grandissima artista duettato con grandi cantanti anche se si è vestita da sposa allora carmen siamo partiti veramente in maniera scoppiettante non fatemi vedere questo personaggio è l'unico che non vorrò mai menzionare tipo l'innominato non lo nominerò andiamo avanti io l'ho infatti ho politizzato molto su di lui perché effettivamente non so perché uno per farsi apprezzare poi debba usare delle cose che effettivamente disturbano quindi io come cristiana mi sono sentita insultata per cui caro innominato hai sbagliato del tutto allora detto questo noi continuiamo a bere il nostro caffè carmen allora sì ricordatevi a biceglie e a trani quindi in via embriani a biceglie non ricordo mai il numero civico 24 ecco 24 meno male ci sei tu serena a dare i numeri sono bravissima e a trani in via al cd del gas per il numero 13 giocateli sulla ruota di bari ora noi nel frattempo andiamo in pubblicità a dare i numeri sono bravissima e a trani in via al cd del gas per il numero 13 giocateli sulla ruota di bari ora noi nel frattempo andiamo in pubblicità a dare i numeri sono bravissima e a trani in via al cd del gas per il numero 13 Grazie a tutti. 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 Grazie, grazie davvero. Abbiamo parlato di spettacolo, abbiamo parlato di Sanremo e quindi abbiamo un ospite che sono felicissima di ospitare qui con te in Casa Serena perché lei è un event manager, è una bellissima donna, è una modella e organizza eventi moda, concorsi di bellezza, film con particolari attori. Ora mi spiego è anche una modella. Ecco perché la vedi così bella. Una cosa che mi ha detto Arianna, stavamo così parlando, noi ci conoscevamo perché diciamo che lavoriamo nello stesso ambiente, poi ci siamo viste di persona a Caserta in un evento molto importante in cui ci siamo fatte una piacevole chiacchierata e lei mi ha colpito perché mi ha detto che le persone vanno sempre conosciute. ci conoscevamo così, ci conoscevamo così in maniera quasi virtuale, però lei mi ha detto che vanno sempre conosciute di persona. Quindi vuol dire che lei forse nel conoscermi di persona, non so, mi ha apprezzato molto di più, come è successo per me con lei insomma. E quindi è nato questo feeling. Tra bionde, vi capite? Sì sì, ovviamente siamo nello stesso ambiente io e Carmen, diciamo che trattiamo più o meno gli stessi argomenti come modelle, concorsi di bellezza, quindi magari si può creare, diciamo è sottinteso ovviamente, una rivalità. Però per quanto mi riguarda la mia persona, io non sento rivali e non ho mai competizione perché anzi io ho proprio lo spirito di collaborazione, infatti appena ho conosciuto Carmen, dopo mezz'ora gli ho detto Carmen organizziamo un evento insieme. È vero, è vero. Quindi poi magari fai anche belle cose insieme, è inutile creare diciamo competizione perché alla fine io penso ognuno ha la sua stella, quindi non c'è bisogno di affannarsi. Giustissimo. Senti Arianna, ma per quelle poche persone magari che ci stanno seguendo in questo momento e che non ti conoscono, ci aiuti meglio a comprendere chi è Arianna, da dove vieni, come nasce la tua vocazione insomma verso la moda, raccontaci qualcosa. Allora ci vorrebbe diciamo una settimana per raccontarmi, però portiamoci avanti con il lavoro. A brevio. Nulla, io ho iniziato da ragazzina, avevo 14 anni, ho fatto il mio primo concorso di bellezza, Miss Muretto, la quale ho vinto e poi da Miss Muretto ho fatto Miss Mondo, Miss Italia, diciamo svariati concorsi e da lì è iniziata diciamo la mia passione per la moda, la passerella e quant'altro. Poi che è successo? Mi sono nata a sviluppare Londra dove ho studiato inglese perché volevo fare l'hostess di volo, cosa che non ho mai fatto, invece ho fatto l'hostess di terra. In contemporaneo ho fatto degli spot pubblicitari, dei servizi fotografici in Gran Bretagna e avevo ancora 20 anni, mi sono soltanto diplomata diciamo in agrario e da lì ho continuato proprio nel mondo della moda come fotomodella perché io a dire non sono una modella perché non ho l'altezza di una modella però sono una fotomodella perché comunque sono abbastanza fotogenica e quant'altro. Dopodiché... Noi apprezziamo proprio delle tue foto, effettivamente sei molto fotogenica. Adesso c'è anche la foto con Ron Moss e adesso arriviamo subito. Nulla, dopodiché l'età passa e io ho detto non è che posso fare a vita la fotomodella anche se alla mia età continuo comunque a fare ancora dei cataloghi e quant'altro. Che ho fatto? Mi sono trasferita a Roma dove ho fatto l'Accademia Eventi, ho studiato proprio come organizzare un evento, quindi tutto quello che concerne diciamo a livello burocratico, teorico e pratico e dopodiché ho aperto la mia agenzia. La mia agenzia l'ho aperta al mio paese che è all'Ocorosondo e molta gente conoscendomi, molti amici, mi demoralizzavano perché mi dicevano tu non puoi aprirti un'agenzia in un paesino piccolo che comunque non è tanto conosciuta la moda, dove lavorerai, che evento farai, rimani a Roma. Io dicevo sì, io ci pensavo in Roma. Perché hai deciso, fermiamoci un attimo, perché tu dopo insomma aver girato il mondo sei andata in Inghilterra. Ho vissuto anche in America. Capito? Perché hai deciso poi ad un certo punto di tornare nella tua città? Allora, prima di tutto io sono molto legata alle tradizioni al sud e dopo aver viaggiato tantissimo... Hai apprezzato di più? Sì, ho apprezzato molto di più e poi la città non è per me, è troppo caotica, non c'è amicizia, è troppo tutto veloce e non avevo la concentrazione giusta per capire cosa volessi fare. Diciamo che è stato un caso che ho aperto nel mio paese, perché io avevo un locale di proprietà dove io lo stavo vendendo, perché alla fine non si affittava e quant'altro, e che è successo? Io in una notte ho sognato mio padre, che era molto adirato con me, perché noi dopo tre giorni del sogno dovevamo vendere questo locale, cioè stavamo parlando con queste persone interessanti. Queste sono le storie che ci piacciono. Per il compromesso. Nulla, io comunque non avrei mai, ma mai, immaginato che aprissi la mia agenzia o lavorassi proprio nel mio paese, perché ho sempre detto alla ragazzina, no, no, a me piacerebbe stare al nord. Anche perché hai viaggiato nel mondo, quindi in Inghilterra, America. Ho fatto anche con i miei sindacchi, vabbè, altre storie. Quindi, poi che è successo? Che ho fatto questo sogno dove mio padre, che non ho più da dieci anni, l'ho sognato che era molto adirato. Che è successo? Il giorno stesso che io dovevo incontrare questa coppia interessata al mio locale, che dovevo vendere, ho visto a terra, proprio in tutta la, diciamo, dove c'è proprio il mio palazzo, diciamo, questo locale, pieno pieno di coriandoli a forma di cuore. Preciso un attimo che il cuore, da quando mio padre non c'è più, lo ho sempre visti, ovunque e sempre. Allora io poi sono entrata dentro, ho detto, ho guardato mia mamma, gli ho detto, no, non mi sento di venderlo, questo locale, perché c'è qualcosa che non va. Dopo due mesi ho avuto una proposta di lavoro dove serviva per forza la mia partita IVA perché dovevo fatturare e da lì ho deciso di aprire. Quindi poi quel locale stesso è diventata la mia agenzia. Cioè, hai capito Carmen, grazie naturalmente ad Arianna in primis per aver aperto, insomma, veramente il suo cuore a tutti gli amici di Casa Serena e ad essersi spogliata in questa maniera perché si parla proprio di cose così intime, così belle. No, ma soprattutto quello che adoro di Arianna è il fatto di non essersi improvvisata nel suo lavoro, quindi di aver studiato, ecco, lei ha studiato per organizzare eventi, è stata a Milano, poi anche con l'inglese, lo sai che domani comincio il corso d'inglese? Questo per farti capire come a volte se viaggi nel mondo con il tuo lavoro e hai bisogno di perfezionarti, lo fai nonostante tu magari possa essere già fuori come età da alcune situazioni. No, no, infatti questa cosa, insomma, mi piace di te Arianna perché sei una, si vede che sei una manager che non si è improvvisata e approfondito. Abbiamo visto, ovviamente, quello che tu hai raccontato, avvalorato dalle immagini che la regia ci ha mandato in cui sei bellissima come modella, ma soprattutto poi ti abbiamo visto a fianco a Romos. Allora, raccontaci come è successo questo incontro e perché. Allora, con Romos, il famosissimo Ridge di Beautiful, che tutti abbiamo seguito, io mi ricordo avevo sei anni. Quello del ferro d'astiro, ok, ci siamo capiti. Nulla, è capitato per caso perché io avendo una casa vacanza alla selva di Fasano, l'affittavo in quel periodo e mi chiama il suo agente, Tiziano Cavaliere, che è di Milano, però vive al sud. Mi chiama e mi dice che ho bisogno di un affitto perché verrà un personaggio noto per un film. Io ho detto, ok, ti faccio vedere la mia casa, lui ha citato e dopo neanche una settimana mi ha portato a Romos. Io, ovviamente, parlando l'inglese, ho parlato che comunque io ho un'agenzia, che organizzamenti, ho molte conoscenze in zona e loro, dopo un mese, mi hanno fatto il contratto per il loro film, Viaggio a sorpresa, con Romos e Lino Banfi, e poi ci sono anche altri attori, anche Paolo Sassanelli, nel cast, diciamo, del film. E ho fatto l'assistente di produzione per questo film che, purtroppo, per pandemia non è ancora uscito, però uscirà a breve. Viaggio a sorpresa. Nulla, in questa occasione ho conosciuto Romos, una persona splendida. Com'è, com'è, raccontaci qualche aneddoto, perché voi magari loro si mostrano in maniera diversa, no? Ma soprattutto a lui piaceva più Brooke o Taylor? Ma lui è una persona tanto, tanto umile, e a parte bello, cioè, non so, in televisione magari sembra, sai, questo viso, però di persona, è un bellissimo uomo, molto affascinante, con un bel carisma. E ha tenuto incollata ai milioni di donne davanti alla tv con Beautiful, quindi... Adesso lui è diventato, cioè, è un produttore, infatti, questo film l'ha creato lui col suo agente. Poi lui amava molto l'Italia, vero? Sì, sì, lui adesso, in questo momento, sta al sud, quindi sta in mia zona. Ma infatti è venuto tantissime volte in Puglia. Gli piace mangiare? Sì, sì, sì. Cioè, che cosa gli piace della Puglia? Allora, è stato anche a casa mia, per due volte, anzi, l'ho incontrato 15 giorni fa, doveva venire a casa mia per problemi, adesso si trova a Misa, a Milano, e lui è vegetariano, mangia, non mangia carne, gli piacciono molto le verdure, diciamo, il suo piatto preferito... Quindi la parmigiana, diciamo, la può mangiare? Sì, sì, perché lì c'è il prosciutto. E allora gli facciamo le orecchiette con le rape? Sì, sì, infatti mia mamma gli fece le orecchiette con le rape, e poi gli piacciono anche le fave. Quindi poi ovviamente lì non esistono in America, però lui è molto attratto dal sud, gli piace tanto il sud, poi lui si rilassa qui, giustamente. Eh sì, senti Arianna, ma cosa bolle in pentola? Cosa hai... vedo che sei veramente una donna poliedrica, hai rivestito tanti ruoli, ti sei messa in discussione in diverse occasioni, abbiamo visto che sei una persona comunque che agisce molto di cuore, oltre che magari meditando, insomma. Ma ora, nella tua mente, cosa c'è? Cosa sogni? Allora, nella mia amante in questo momento c'è un macigno, perché sono stata fin troppo ferma e non è da me, e Carmen mi può capire. E allora, io continuo comunque con il mio concorso di bellezza, che ce l'ho già da due anni, sono la responsabile in Puglia e Basilicata, quindi appena si sbloccano gli eventi io inizio. E poi con Carmen, adesso lo dico in diretta, avrei il piacere di organizzare un bel evento. E per me, con la mia forza e anche la sua forza, si può creare un bel connubio. Guarda, mi piace il suo carattere, perché stavamo un po' chiacchierando in attesa che cominciasse la puntata. E io le dicevo, sì, ripartiamo, è un momento in cui, nello stare troppo fermi, quasi ho perso la grinta, per esempio. E lei mi diceva, ma no, ma che dici? Perché vedi, una donna che incoraggia un'altra donna, è bellissima questa cosa. E io mi auguro che veramente insieme si possa organizzare un bellissimo evento, per cui te lo prometto. Va bene, allora assi te. Rimanete qui, ormai l'abbiamo detto davanti a tante persone. Sì, sì, che bello, mi piace, mi piace poi questa intesa tra donne, mi piace questa voglia, insomma, sempre di mettersi in gioco, sempre di, insomma, non lasciarsi vivere, ma di vivere. Giusto? Certo, certo. Arianna? Ma poi... Mai stare fermi. Ma poi hai sognato più il tuo papà? Vabbè, io lo sogno spesso. Diciamo che mi dà di segnali, cioè, se lo vedo un po' arrabbiato, vuol dire che c'è qualcosa che... Che non va. Non va, oppure mi sta dando un consiglio su qualcuno, una situazione, una persona. Ma ti segue, il tuo angelo custode. Sì, sì, sì. Io non... Cioè, ho sempre creduto, però magari se non ti succedono di persona, non lo sai, cioè, non... Sei sempre un po'... Un po' scettica, sì. Un po' scettica. Invece, guarda, Arianna ci dà anche questo tipo di testimonianza. Sì. Senti, Arianna, ma in Brasile quanto tempo sei stata? Tu hai detto... Quella è un'altra storia. Sì, allora, la racconto sempre in breve. Io, a parte fare la fotomodella, ho lavorato per forse cinque anni come balenina di samba. Quindi... Lo sapevi, Carolina. Eh, ma guarda, basta vederla in piedi, ha un fisico. È vero. Mamma mia. Mamma mia, diciamo, che lavoravo proprio con le brasiliane che sono, diciamo, nella zona nostra, in Bari e provincia. Quindi lavoravo in tutti i macrimoni, gli eventi. Diciamo che mi trasformavo da brasiliana, sempre su tre lampadate, con la parrucca e tutto quanto, e facevo questi balletti di samba. Dopodiché una mia amica brasiliana mi dice, io sto andando in Brasile dai miei genitori a Salvador de Bahia. Io prendo il volo e la raggiungo. Che succede? Che lei mi dice in Brasile, Arianna, io sto partecipando a un concorso di bellezza che è Miss Salvador de Bahia. Però i concorsi di bellezza che fanno lì, non sono i concorsi di bellezza che fanno qui, cioè, nel senso che c'è la passerella, tutto quanto. Lì devi esibirti, in fronte a una giuria, sambando, quindi ballando. Erano, niente, arriviamo, lì si scrive, diciamo, la gente mi guarda, io ero super abbronzata. Sto già pensando alla prossima ospitata di Arianna Tagliente. Hai capito? Era super abbronzata. Sono già andata oltre. Era super abbronzata e lei mi dice, sei brasiliana? In portoghese, io un po' lo capivo, no? Lo capisco. E io dico, no, no, veramente sono in vacanza, la mia amica, dai scriviti. Ma io dico, non sono, sono italiana, non fa niente, sarà per la prima volta che si scrive una straniera, una forestiera. Niente, io mi scrivo, morale della favola, faccio questa esibizione dove mi mettono anche l'interprete, parlo in giuria, metto la musica, stavano tutte di colore, tutte brasiliane, l'unica chiara. Bionda. Faccio il mio balletto di Samo, molto disinvolta perché sono disinvolta. Nulla, finisce tutto, torniamo dopo due giorni, non avevamo i telefonini perché parliamo di dieci anni fa. Chiamano a casa della mia amica e gli dicono, c'è la tua amica italiana? Cioè sì, lì ha superato il concorso, diciamo che ha quasi vinto e gli dovremmo parlare. Nulla. Quel po' mi dice, dico, vabbè sì, tanto in Brasile, che vuoi che sia. Faccio per uscire di casa e a un certo punto sento la mia amica che grida, guarda Rianna, guarda. Mi giro, c'era un tipo, un giornalaio e sono tanti giornali con la mia, proprio con la mia foto. E' incredibile, così, oddio, c'era scritta, per la prima volta a Salvadori Bahia, dopo 50 anni di concorso, si presenta una forestiera. Cioè come se tu avessi vinto l'Oscar, perché effettivamente vincere in terra brasiliana con la samba, in un concorso in cui ti esibivi con la samba, che hai vinto l'Oscar. Ma io poi l'ho presa a ridere, perché dopo veramente stanno facendo, cioè sul giornale. E poi questo giornale io l'ho messo su Facebook e è arrivato direttamente al mio paese, sono uscita anche, diciamo, sul giornale del mio paese. Quindi è stata, diciamo, un po' una cosa ironica che mi è successa lì. Allora, Serena, dobbiamo arrivare a dieci. Bella, colta, intraprendente, poi professionale, generosa, siamo arrivati a cinque. Multilingue. Multilingue. Bionda. Bella, brava, insomma. Grazie. Molto umana. Sì, sì, molto, 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 molto. Ha degli occhi che sorridono, è veramente una voglia di vivere immensa. Io ti faccio veramente tanti in bocca al lupo, ma tanti complimenti. Crepi e grazie. È stato un vero piacere ospitare qui Arianna a saperlo prima, una bella samba. L'avremmo potuta fare. Mi vestivo da brasiliana. Ma tanto noi... Senti, quale è il segreto? Cosa bisogna fare? Scolettare. Scolettare. Ma tanto noi, Serena, voglio dire, rimarremo ancora a lungo nella casa. Però non mi chiedere di ballare. Ma ti prego, Carmen. Non lo so fare. Grazie Arianna, è stato un vero piacere. Grazie a voi. Grazie. Grazie, grazie. Carmen, mi sono divertita, mi è piaciuta tantissimo. Sì, abbiamo sempre degli ospiti variegati. Poi Arianna la sto corteggiando da tempo. Si è messa in gioco. E finalmente, sì, lei è molto spontanea, come vedi. Quindi sono molto contenta di questa... Dieci e lode. Bella amicizia, che voglio dire, come ha detto lei, fra persone che fanno lo stesso lavoro non c'è competizione. Ognuno rimane nel suo stile, nelle sue competenze. Giusto. Ognuno è unico nel suo genere. Allora, cara Carmen, ora ci lasciamo per qualche istante di pubblicità e poi continuiamo a parlare di bellezza secondo una diversa accezione. A tre. Grazie a tutti. 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 e saluto tutti gli amici che ci stanno seguendo e ci stanno scrivendo in questo momento su Facebook continuate a farlo alla pagina di Teleregione seguite, seguiteci insomma in questa avventura quella di Casa Serena vi ricordo che subito dopo il TG ci sarà invece lo spazio di Palcoscenico Sanremo mi raccomando, ultimo appuntamento sempre con Carmen e Cristian Carmen, amore mio Serena, ti vedo bella e pimpante questo vuol dire che ti siamo mancati perché guarda ti vedo mi è mancata questa famiglia perché lo posso certificare loro sono amici davvero la tua casa mi mancava e allora grazie Serena per aver ricordato ai nostri amici che oggi ci sarà l'ultima puntata di Palcoscenico Sanremo ma noi riprendiamo i nostri tutorial con la bellezza con una makeup artist che io ritengo un giovane talento ma veramente vulcanica perché lei una ne pensa e mille ne fa tanto che guarda che sorpresa oggi ci porta un tutorial su un uomo guarda abbiamo il nostro modello Angelo e quindi ora lei ci spiegherà benvenuta Antonella Ballarino ciao Carmen ciao Serena buon pomeriggio benvenuta ciao noi è dall'anno scorso che non ci vediamo finalmente ci siamo riviste benissimo come stai Antonella? tutto bene? sì sì tutto bene vi ho portato oggi un regalo zia Carmen e zia Serena anche io oggi allora vi porto un mazzo di te lo concedo te lo concedo zia Carmen come zia Mara però su Serena no dai 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 facciamo facciamo che siamo tre sorelline sì grazie cominciamo anche noi con zia Mara papalina allora cosa hai portato questo meraviglioso bouquet sì per la nostra rubrica anziché di Sanremo del nostro make up qui a Teleregione a Casa Serena quindi ho portato per voi questo pensierino grazie e nel frattempo oggi apriamo con un nuovo tema make up uomo televisivo come sai Carmen l'ultima volta che ci siamo viste io ho mandato un sondaggio sui social e il make up uomo televisivo oggi ha vinto quindi ho portato questo ragazzo che è un corsista della CESVIM della nostra accademia ed è un hair stylist bene bene hai visto loro cosa fanno? infatti tu dicevi prima di andare in onda che ha curato anche i tuoi capelli? sì mi ha fatto una treccia incorporata e poi diciamo bella all'altro lato mi ha lasciato un look più sbarazzino quindi mi ha raccolto solo un lato bella mi piace eccomi allora con Angelo oggi siamo andati a preparare la pelle quindi tu sai Carmen l'importanza della skin care prima di ogni trucco quindi prima nel backstage abbiamo preparato innanzitutto la pelle come sai anche tu Serena sono molto fissata sulla skin care sull'importanza quindi prima della preparazione prima di ogni trucco quindi cosa ho fatto abbiamo fatto uno scrub per togliere tutte le impurità poi ho utilizzato un detergente schiumogeno per pulire la pelle e poi ho creato una maschera e l'ho applicata per una decina di minuti dopo che la pelle è stata ben idratata e quindi ha portato anche i nutrienti e le vitamine all'interno della crema sono andata ad applicare dei sieri soprattutto nel contorno occhi perché lui ha un contorno occhi molto scuro dato dalla stanchezza e quindi anche per genetica e poi sulle linee delle espressioni anche se ha comunque 20 anni ho cominciato a mettere dei sieri anti-age soprattutto in questa zona dove si creano quindi bisogna agire così per tempo già dai 20 anni sì in realtà dai 20 ai 25 si consiglia per quello che abbiamo studiato in accademia è importante la prevenzione prima quindi di avere rughe o imperfezioni quindi prima curiamo la pelle meglio è e ho portato ho scelto questo make up uomo televisivo perché voglio far presente che non è più un tabù come lo si credeva una volta anche gli uomini della tv come abbiamo visto in questi giorni a Sanremo erano tutti super truccati soprattutto anche Blanco tutti i cantanti ma anche Amadeus stesso ma cambiano le regole per il trucco maschile sì in realtà sì cioè non c'è più questa concezione che il make up uomo trasforma completamente il viso come succede in una donna in cui in una donna il prima e il dopo si vede tantissimo il cambiamento e in un uomo ha un effetto filtro cioè definirei più dire un effetto photoshop per intenderci infatti abbiamo usato su di lui il correttore per le occhiaie quindi ho tolto le occhiaie il fondotinta sempre leggero quindi non troppo pesante ho fatto il contouring con uno stick in crema scuro per ombreggiare le sue linee e quindi sfinire il volto e poi infine ho fatto anche il contouring al naso cioè ho creato queste linee in cui poi in ombra in cui poi le ho sfumate e ho messo in risalto la luce in questa zona chiamata appunto zona T Antonella sei stata brava perché avendo anche Angelo la barba a volte non è semplice perché si crea tra la barba e la pelle del viso ovviamente quei confine in cui poi è difficile andare ad applicare la base no? vedi io ti vedo sorridere proprio per questo perché già sai cosa ti dirò adesso un piccolo segreto qui alle nostre fan allora praticamente ho utilizzato due fondotinta due tipologie uno per la parte centrale per illuminarla e l'altra per diciamo allineare di più il volto e quindi andarlo a ombreggiare innanzitutto con la barba ho creato con un altro pennello pulito una sfumatura quindi ho picchettato il confine tra il viso e la barba con un pennello pulito proprio per sfumarlo meglio e ho inserito con una matita per le sopracciglie delle ombre qui nella definizione della barba quindi ho coperto alcune linee capito che lavoro serena cioè mica è una cosa così semplice mentre lei parla no Carmen sto guardando anche quello che è il nostro ritorno video e io Angelo ti chiedo di girarti un attimo verso la telecamera guarda di modo che gli amici a casa possano vedere poi quello di cui stiamo parlando e quello che notavo tramite questo ritorno è la naturalezza di quello che ha creato Antonella perché lei ora ce lo sta raccontando però noi quello che vediamo è un volto naturalissimo non sembra assolutamente truccato ma si comprende che guardando attentamente mancano quei segni che diceva lei che indicava lei ma perché l'ho detto altrimenti sembra semplicemente un ragazzo molto curato esatto e ti dirò di più ho anche inserito una matita labbra ho applicato una matita labbra per contornare fuoriuscire un attimino dal bordo e poi per dare un po' di volume alle labbra ho applicato un rimpolpante che potrebbe essere anche utilizzato comodamente su un uomo quindi non è detto che un make up televisivo sia solo per un certo tipo di genere a proposito di labbra ti voglio fare una domanda ma tu che sei un'esperta le labbra di Mahmood erano truccate a me sembra di sì si è chissata con Mahmood sì in realtà secondo me era completamente tutto truccato quindi era un effetto naturale mettendo il risalto in luce il volto però in realtà ci sono molti segreti come quelli che ti sto dicendo ne stiamo parlando tipo una matita leggera color carne che riprende il colore naturale delle labbra un po' più fuori dal bordo e quindi sembra super naturale in tv vedi cosa nota Carmen senti Antonella un consiglio tu stai parlando di un uomo che magari ha il segno dell'occhiaia giusto? perché ha la parte un po' più scura come capita anche alle donne e magari c'è bisogno poi di una correzione proprio per togliere quell'effetto bluastro ma per quegli uomini e ne conosco veramente tanti che dovessero avere invece il problema delle borse che consiglio vogliamo dare? vale quello del cucchiaino da mettere nel freezer? mi hai seguita l'altra volta? allora sì vale lo stesso solo che la borsa è un attimino un po' più difficile da coprire e togliere eliminare mentre l'occhiaia possiamo coprirla con degli strati dei correttori la borsa è un rialzo quindi è molto difficile coprirla però cercheremo di fare il possibile con il make up in alternativa c'è la chirurgia ahimè ma no ma non arriviamo impacchi con le patate con i cetrioli quindi diciamo le regole sono sempre le stesse bisogna utilizzare un correttore come? è chiaro? allora per gli uomini lo stesso? sì sì più o meno nel caso degli uomini andiamo a idratare soprattutto con un siero occhi la zona e poi applicare se sono così scure un correttore prima aranciato che va secondo l'armocromia a contrastare il grigiastro e poi inseriamo un correttore illuminante anche dalle tonalità beige nude quindi per poi uniformarlo con il viso quindi ci sono due tipi di correttori che andiamo a applicare prima ovviamente facendo attenzione a stratificarli certo ma nel nostro territorio c'è già l'effetto trucco magari trucco sposo o non ancora? allora in realtà questa era una mia idea perché ultimamente volevo anche lanciare il make up sposo perché qui al sud non è molto ancora sviluppato però al nord so che su Milano ci sono molti sposi che già chiamano delle truccatrici proprio per truccarsi ma questa tecnica viene fatta anche soprattutto all'estero molti soprattutto in Turchia ho letto un articolo qualche settimana fa dove gli stessi barbieri in alcuni saloni oltre che a fare i capelli fanno anche addirittura la base per il fondotinta Angelo fa sì con la testa il nostro modello quindi evidentemente ha certezza ne ha certezza anche lui Carmen Serena io sono felicissima del tutorial di oggi perché tante volte il mondo della bellezza sembra che sia un mondo soltanto donna tantissimi uomini mi hanno chiesto consigli ce ne sono tanti che sono appassionati mettono la crema ogni mattina la sera prima di andare a dormire c'è anche l'uomo che ci tiene insomma per cui sono veramente contenta oggi di dare questi consigli con Antonella ad esempio si toccano tantissimo i maneskin per dire Damiano dei maneskin devo dire che ci dà dentro lì siamo un po' sul dark diciamo così va bene cosa fai? allora io intanto vi ho portato una cipria opacizzante perché Carmen Serena ho fatto un corso di fotografia post produzione quindi mi hanno insegnato che in base alle luci televisive non fa molto bene il fondotinta creato con molta luminosità al viso perché poi destabilizzerebbe troppo con le luci quindi andiamo a opacizzare con una cipra in polvere e vi faccio vedere un attimino come infatti ho odiato tantissimo vedere alcuni nostri cantanti con quella pelle lucidissima ma soprattutto insomma l'arettore aveva quel colore grigiastro secondo me faremo una puntata dedicata nel passaggio pomeridiano con Antonella in cui parleremo proprio di tutti questi make up perché davvero voglio sentire il parere di un tecnico senti ad esempio io mi fisso poi Elisa che aveva quel bianco sull'occhio si si adesso va tanto era che tipo di di trucco ma sai perché perché molte volte se quel make up viene lanciato da un grande stilista come può essere Dior o Dolce Gabbana poi lo utilizzano anche in altri ambiti va bene quindi guardate come l'effetto pacizzante con le luci da televisione ha dato un effetto naturale quasi un effetto filtro Instagram giusto senti c'è un trucco a Sanremo che proprio non ti è piaciuto Antonella beh in realtà c'è stato uno l'ultimo look di Francesca Michelin non mi è piaciuto sul marrone troppo grafico e c'era anche una tonalità di verde non mi è piaciuto perché era un ombretto troppo scenografico quindi non l'avrei fatto su di lei ma perché Antonella il trucco grafico già è molto esagerato si ispira un po' quasi a Cleopatra se poi tu dentro ci vai a mettere il verde il fucsia cioè esageri tanto al massimo l'avrei fatto con tonalità che stanno bene su tutto come il nero il marrone o alcune alcuni colori caldi ma il verde proprio no senti Antonella ma Amadeus e Fiorello erano truccati? sì secondo me sì anzi ti viro di più anche i cameraman secondo me quale cameraman? lì a Sanremo c'erano anche i cameraman truccati? secondo me sì si truccano tutti qua vabbè ma poi devo dire Amadeus è quello che più di tutti forse ha fatto le ore piccole perché chiudeva le due poi forse un po' l'adrenalina doveva rivedere i copioni del giorno dopo io non so quanto abbia dormito quindi molte volte il trucco aiuta quando anche io dico ad Antonella mi togli un po' di stanchezza prima mi hai fatto tanti complimenti grazie a lei che mi ha truccato esatto il mio scopo oggi è proprio quello il mio capuomo dà un effetto riposo riposo cioè rilassato relax quindi non più stanchezza gli uomini non sono più stressati senti Antonella ma Amadeus secondo te l'ha trattata la pelle a vent'anni no sono smontando dei miti oggi secondo me no però un contouring più accentuato al naso l'avrei fatto ok quindi dei consigli sul insomma sui trucchi da parte della nostra Antonella noi stiamo continuando a parlare di Sanremo perché subito dopo Casa Serena o meglio subito dopo il TG ci sarà sempre proprio palcoscenico Sanremo sì ma credo che ancora per qualche giorno se ne parlerà perché adesso poi stanno venendo fuori tutti i video dei backstage le interviste quindi insomma se ne parlerà ci sarà ancora è la manifestazione insomma più seguita d'Italia senti Antonella in ultima battuta se tu volessi dare dei consigli ai maschietti che ci stanno seguendo in questo momento allora soprattutto direi di fare una pulizia riso una volta al mese preferibilmente ma anche una volta all'anno va benissimo quindi curare la pelle con dei contorni sieri contorno occhi per proprio eliminare le occhiaie e poi anche delle creme idratanti semplicemente per magari prima di andare a dormire anche se non lo farà mai nessuno però noi lo diciamo quindi non quelle maschere che fanno scappare i mariti dal letto quando le mettono le donne in questo caso se lo fa l'uomo e la donna vanno a letto insieme non ci sono problemi che dice Antonella? quella è anche un'alternativa per farlo spaventare tu hai terminato? sì ho terminato però vi vorrei fare una domanda secondo voi ho applicato il mascara su Angelo senti io lo sto guardando un attimo di profilo di vedere un primo piano sì guardatelo in primo piano secondo me sì aspetta che ora inquadriamo batti gli occhi come se fosse una bella cerbiatta per me sì appena appena c'è secondo me sì è vero? sì sì che dici Antonella? ma guarda quanto mi assomiglia a Mahmood oggi oggi e tu provi un amore particolare per questo Mahmood brave avete risposto esattamente ho applicato un velo sottilissimo di mascara per un effetto naturale sì è vero ha un effetto naturale però io in questo momento lo sto guardando anche un po' di profilo per cui si vede che insomma ha questo sguardo così profondo esatto e ho anche applicato una matita nera in fraccigliare cioè all'interno dell'occhio nella parte superiore quindi non si vedrà mai no infatti questo non l'avevo notato bravissima la nostra Antonella e grazie al tuo modello Angelo grazie ragazzi grazie e a presto Serena io voglio salutare tutti gli amici che hanno dato soprattutto un bentornata a te sono tantissimi perché hai visto sei mancata a tutti quanti anche Chris che saluta Arianna lui ha presentato un suo evento quindi ci teneva a salutarla intanto Chris si sta preparando insomma per dopo e noi abbiamo terminato questo appuntamento qui su Telelegione con Casa Serena grazie Carmen mi sei mancata ecco anche tu tantissimo te l'ho detto questa casa non era la stessa senza di te quindi finalmente siamo tutti più rilassati e a Dio piacendo come sempre noi ci rivediamo lunedì prossimo Carmen lunedì prossimo intanto pranziamo insieme adesso per cui io saluto gli amici per dare appuntamento ad oggi pomeriggio allora amici a casa noi siamo veramente ai titoli di coda per questo lunedì insieme lunedì 7 febbraio Carmen lunedì prossimo è San Valentino che bello che bello sono contenta di festeggiarlo con te sì che bello davvero faremo insieme anche gli auguri a tutti gli innamorati tu lo vedi Alex Belli che dice che l'amore non si può inscatolare no senti allora se tu non vuoi che io ti nomini Lauro per favore non mi nominare Alex Belli allora non mi scatoliamoci so già di cosa parleremo lunedì non mi scatoliamoci neanche noi amici a casa abbiamo concluso questo appuntamento così come detto ora ci sarà il TG condotto da me poi subito dopo palcoscenico saremo con questo tandem d'attacco la nostra Carmen e il nostro Cristian ciao Carmen grazie Antonella ciao a tutti ciao a tutti